Eccoci qua, tifosissimi di Lazio, tifosissimi di Juve, tifosissimi in generale della Serie A, benvenuta alla Stadio Olimpico, Lazio-Juventus, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del massimo campionato. Allora sì, formazione da Lazio con Stracoscia a tre pari, Wallace, Scervi, Radu, Parolo, Leiva, Marosic, Milinkovic, Savic, Lulic, Luiz Alberto e Immobile, che se trovate le vere tue, via discorrendo, quindi un 3-5-1-1, dovrebbe essere questa la formazione della Lazio con Lulic, Luiz Alberto e Marosic dietro a Immobile. Scesni, Cancelo, Bonucci, Chiellina, Alexandro Pjanic, Ventancuro, Matuidi, Dybala, Mandzukic e Ronaldo, agli ordini di mister Allegri, da Cascosta, Gherina, Bernadio Schick, Can, Barzagli e Perin qua. Il destro e il vantaggio della Juve, al 31esimo minuto, segna sempre lui, CR7, che va a festeggiare con Dybala al 31esimo minuto. 1-2 con Dybala, poi Dybala per Manzo, chi c'è Manzo, chi c'è serve, CR7, che gli viene lasciato troppo spazio tra Wallace e Acervi. Con controllo, ancora di San Alberto, Parolo, Immobile, Traversa, Traversa di Ciro Immobile. Nanta Juve, pallone nel mezzo, la mezza rovesciata di Ciro Immobile. Traversa di Immobile, tutto finisce qui il primo tempo, Lazio 0, Juventus 1. E si riprende dal risultato di 1-0, CR7, al 32esimo minuto, la per Lulic, attenzione sulla sinistra, Lulic può crossare nel mezzo, arriva l'integrativo, l'opportunità, al 69esimo, opportunità Lazio, con Luiz Alverlic, il filtrante che non arriva, arriva per Luiz Alberto Caisseto. Straordinario scelto. Impegna seriamente cercare di creare l'ultima occasione, Vadel non ce la fa, finisce qui, Lazio 0, Juventus 1 decide il gol al 32esimo minuto di Cristiano Ronaldo, la gioia dei tifosi bianconeri, la disperazione dei giocatori laziali.